Sicuramente loro sono una squadra di categoria, penso che far punti qua sono stati tre punti fondamentali e è stata la dimostrazione che possiamo far bene in questo campionato e dai bene così. Mister Nofri alla fine è stato piuttosto polemico, ti ha tirato in ballo possiamo dire anche per alcune frasi che sarebbero state dette durante lo svolgimento della partita, come rispondi? No, sono cose che capitano in campo, penso che poi dopo finisce tutto e ci sta, anche lui è un sanguigno come me quindi per me in campo ci sta, insomma, le batti becco e poi finisce là. Che cosa vuol dire questa vittoria per l'Arezzo? Cinque vittorie in cinque partite. Sì, è bello perché io ricordo bene il record che abbiamo fatto, che abbiamo fatto, perché mi ci metto un ballo anch'io perché andavo sempre in trasferta, quindi con Mario Somma all'anno della Serie C, quindi è bello aver guagliato questo record. Temevate questa partita? Sì, come ho detto prima, è una squadra di categoria con giocatori importanti, penso che siamo stati solidi, siamo stati in partita è chiaro, sicuramente potevamo far meglio, quello sempre, penso che sulle seconde palle a volte abbiamo un po' peccato su magari avere un po' più di coraggio nel fare l'imbucata, nel fare il passaggio giusto, però dai alla lunga penso che la vittoria sia meritata.